In collaborazione con Antica Cantina di Canelli. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Asti, una telefonata anonima poco prima di mezzogiorno effettuata al giornale locale La Nuova Provincia con una voce maschile ha annunciato la presenza di una bomba d'orologeria nelle aule del Tribunale. Come vediamo dalle immagini, immediatamente su ordine della Polizia Giudiziaria il palazzo è stato evacuato. Sul posto si sono subito attivati due artificieri della Polizia che hanno passato al setaccio tutte le aule e gli uffici alla ricerca del possibile ordigno. Le ricerche fortunatamente sono risultate vane e l'allarme è rientrato. E questa mattina molti si sono chiesti se la provincia di Asti fosse già stata definitivamente abolita. L'equivoco è nato dall'uscita del quotidiano La Stampa, privo delle consuete pagine con la cronaca dell'Astigiano. In tutte le edicole e a tutti gli abbonati di Asti e Provincia, infatti il quotidiano torinese è stato distribuito con le pagine dedicate al Cuneese. Naturalmente l'abolizione delle province non c'entrava nulla, ma il disservizio purtroppo sarebbe dovuto, hanno spiegato alla stampa, da un incendio sviluppatosi in una tipografia. In ogni caso i commenti della maggioranza degli astigiani sull'abolizione della provincia di Asti sono stati meglio un accorpamento con Cuneo che con Alessandria, anche se molti preferirebbero chiaramente l'allargamento della provincia di Asti con l'Albese, l'Acquese ed il Casalese. E con una brillante operazione investigativa i carabinieri di Asti hanno catturato il capo della banda della spaccata. Valentin Sergio Molnar, 26 anni, romeno, considerato molto pericoloso, sarebbe a capo della banda che con la tecnica della cosiddetta spaccata ha utilizzato un'Alfa 147 rubata ad Alessandria per sfondare le vetrine e svaliggiare diverse orificerie ed ottici del nord Italia, fra cui l'ottica Paros di Canelli, la gioielleria Forti di Asti, l'ottica Moncalvo, la gioielleria mercante dell'Oro di Brescia e la Boggione di Casale Monferrato. Il valore della refurtiva venduta sulla piazza di Torino si aggira sui 400 mila euro, per questo il ricettatore, un gioielliere torinese, è stato denunciato a piede libero. Il Molnar è stato arrestato nella mattinata di ieri, mentre in auto stava per fuggire in Spagna, dove verosimilmente doveva incontrare gli altri quattro componenti della banda, sulle cui tracce si stanno muovendo i carabinieri. L'uomo era armato di pistola con il colpo in canna. L'arma sequestrata al malvivente era stata rubata a Torino alla gioielleria Borla di Corso Francia. Tra i diversi reati contestati all'arrestato ha anche un giro di prostituzione attivo a Torino nelle zone di Corso Francia e Piazza Massaia. Naturalmente le indagini proseguono. L'annuncio di questo importante arresto è stato dato questa mattina dal comandante colonnello Fabio Federici, che ha lasciato l'incarico di illustrare questa ultima operazione al capitano Angelo Lano, che da domani sarà in congedo. Sentiamo. Riteniamo quindi di avere dato un significativo segnale, una significativa risposta contro questo tipo di criminalità. Per gli altri tre come pensate di procedere? Per gli altri tre riteniamo che siano già all'estero e non appena l'autorità giudiziaria avrà perfezionato l'emissione di un provvedimento di cattura ci attiveremo per farlo eseguire all'estero. E velocemente in chiusura ancora un'ultima notizia. Ieri ad Asti, sul balcone di un condominio di Corso Alba, un uomo psicolabile ha ferito il figlio e due carabinieri. Il pensionato, armato con due grossi coltelli da cucina, uno puntato alla gola e l'altro al cuore, urlando frasi sconnesse, minacciava di uccidersi buttandosi nel vuoto per cercare di farlo desistere dall'insano gesto intervenuto prima il figlio ma dovuto ritirarsi perché colpito di striscio con un fendente. Ad un braccio, infine, due carabinieri sono riusciti a disarmarlo anche se peraltro rimanendo entrambi feriti leggermente. L'uomo è stato ammanettato e poi consegnato al personale medico del 118 per il ricovero in ospedale. E con questo da Asti è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.